Ci dispiace dire che avevamo ragione quando nel novembre del 2014 chiedevamo al Governo nazionale di nominare un commissario che, sentite tutte le parti, potesse portare avanti con celerità attraverso le conferenze di servizio il dossier Gela. E' uno dei passaggi della nota diramata da Lega Coppa Sicilia, Giovanni Salsetta, componente nazionale. E noi comunque abbiamo chiesto di commissariare subito il tutto e procedere a quello che si deve fare per il protocollo perché è importante, Gela sta morendo e noi abbiamo bisogno di lavoro. Chiediamo lavoro. Rimendichiamo il lavoro, la salute, lo sviluppo, gli investimenti, visto che il Governo centrale ha abbandonato questo territorio. Dopo anni che ovviamente produce un PIL anche a livello nazionale. Anche lo sport oggi è sceso in piazza. C'era il gelacalcio. E' chiaro a tutti il legame di sangue fra la squadra biancazzurra e la propria città, soprattutto nei momenti di grande difficoltà. Siamo molto solidari. Per queste persone in questo momento sono il ginocchio. La città è che ormai non c'è una via di uscita. Per cui anche se non sono gelese sono molto preoccupato, soprattutto per queste persone e anche per le famiglie bisognose.